Oggi voglio parlarvi di un nuovo sito che permette di ricevere 5 euro di bonus a certe condizioni e soprattutto tanto cashback acquistando dai negozi più famosi convertibile poi in soldi su Paypal, buoni Amazon o semplicemente anche tramite bonifico bancario. Inoltre ci sarà anche possibilità di ricevere il cashback dalle pubblicità che ci permette di guadagnare solo navigando e questo è il primo sito in Europa che permette di svolgere questa attività. Guarda questo video fino alla fine perché spiegherò tutto nei minimi dettagli e darò dei consigli fondamentali per sfruttare questo sito al meglio tramite le tante opportunità di guadagno che offre. Prima di iniziare però ti invito a lasciare un bel mi piace a questo video per supportarmi e se ancora non l'hai fatto iscriviti anche al canale per continuare a seguirmi. Adesso mi sposto al computer e vi mostro nei minimi dettagli come funziona questo sito. Andiamo! Il sito in questione si chiama Best Shopping. Trovo in descrizione di questo video il link per fare direttamente la registrazione e dopo ti mostrerò anche come ricevere 5€ di bonus. Questo sito accoglie più di 1500 negozi con 400.000 utenti registrati. Il sistema è semplicissimo per ogni acquisto fatto in un negozio passando ovviamente da Best Shopping quest'ultimo riconosce a questa piattaforma una percentuale della spesa percentuale che poi Best Shopping restituisce in larga parte all'utente sotto forma di cashback. Per chi non lo sapesse il cashback ci permette di ricevere una percentuale in soldi per ogni acquisto che facciamo tramite un negozio e utilizzando questo sito ci sono una moltitudine di negozi per riceverlo. Adesso vi spiego tutto nei minimi dettagli. Per creare un account davvero molto semplice basta cliccare su Altin il tuo cashback e possiamo fare l'accesso sia tramite Apple che Facebook oppure semplicemente anche tramite l'email normale. Basta solo accettare queste condizioni poi cliccheremo su registrati e risparmi e in pochi passi avremo il nostro account. Per ricevere il cashback è davvero molto semplice basta cliccare qui su cashback e vediamo i negozi che offrono il rimborso. C'è possibilità di scegliere subito già tra i negozi top cioè quelli più utilizzati come ad esempio Groupon, Hype, Canon, Ebay, Booking, H&M, Nike eccetera oppure semplicemente c'è anche una suddivisione in categorie. Ad esempio per mostrarvi come funziona il tutto io sceglierò la categoria che utilizzo di più che è quella dell'abbigliamento e accessori. In questa pagina c'è possibilità di trovare tutti i negozi che offrono un cashback per ogni acquisto che avviene tramite Best Shopping. Ad esempio c'è Asos, H&M, Decathlon, Adidas, Zalando, OBS, Nike. Davvero c'è possibilità di scegliere tra tantissimi negozi. Ad esempio mettiamo caso che voglio ricevere il cashback da parte di Nike basta cliccare qui sul simbolo del negozio e comparirà questa schermata. Passando da Best Shopping abbiamo un cashback fino al 2,40% sul prossimo acquisto con Nike. Per farlo basta cliccare su vai al negozio e ci viene poi spiegato come fare tutto correttamente per poi ricevere il cashback. La cosa importantissima da fare è di non uscire mai dalla pagina del negozio in questione. Ad esempio in questo caso Nike e non aprire poi altre pagine alla fine di ogni acquisto. Cliccando su prosegue automaticamente si aprirà il sito della Nike e ogni volta che acquistiamo un prodotto riceveremo il 2,40% di cashback. Davvero molto semplice. Ripeto che è molto importante seguire gli step di prima per far sì che tutto funzioni correttamente per poi ricevere il cashback. E tra poco vi mostro come convertire queste percentuali di cashback ricevuti in soldi su PayPal, buoni Amazon eccetera e soprattutto anche come ricevere poi il bonus di 5 euro. L'unica cosa che ti chiedo è di seguirmi fino alla fine per far sì che tutto funzioni correttamente. Un altro tool molto interessante che offre questo sito si chiama Memo che è un'estensione del browser che ricorderà ogni qualvolta navighiamo sui siti internet se i siti che stiamo visitando sono presenti su Best Shopping. Basta solo cliccare su questo pulsante rosso e automaticamente poi possiamo aggiungere questa estensione al nostro browser. Adesso vi faccio un esempio per vedere come funziona. Cercando su Google ASOS vediamo che subito compare la scritta puoi avere un cashback del 7,20% con questo sito e quindi già sappiamo che riceveremo un cashback del 7,20% acquistando tramite Best Shopping su ASOS. Una volta aperto ASOS poi vediamo che compare anche questa schermata che fa parte sempre del sito e ci ricorda di nuovo che possiamo ricevere il 7,20% di cashback. Basta cliccare qui per attivarlo e automaticamente per ogni acquisto che faremo tramite ASOS c'è possibilità di ricevere il cashback. Vediamo che tramite questo simbolo il cashback attivo basterà solo acquistare e poi ricevere la percentuale del 7,20% sull'acquisto. Un'altra informazione molto interessante da sapere è quella inerente ai traguardi. Come ben vedete vicino al mio profilo qui c'è un gattino che simboleggia il livello base. In totale ci sono 14 traguardi. Più fai acquisti più otteni rimborsi e più c'è possibilità di salire di livello. Ogni livello poi aumenta le percentuali di cashback che ricevi da ogni negozio. Ad esempio l'ultimo traguardo che è quello del leone permette di ricevere un cashback del 17,33% che è tantissimo. Cosa molto importante da dire è che solo 4 volte all'anno c'è possibilità di ricevere il cashback del traguardo da leone. Infatti questo evento si chiama mercoledì da leone. Il prossimo evento avverrà il 23 giugno quindi se hai intenzione di guadagnare del cashback su tue acquisti online e ricevere poi soldi su PayPal oppure buoni Amazon ti conviene affrettarti. Inoltre c'è anche possibilità di ricevere il cashback tramite ricariche telefoniche e abbonamenti. Basta cliccare qui su ricariche telefoniche e selezionare ad esempio abbonamenti e ci uscirà questa schermata. Possiamo ricevere in questo caso un cashback istantaneo che permette di avere subito uno sconto all'acquisto. Ad esempio per quanto riguarda l'abbonamento a Netflix riceveremo un cashback istantaneo dell'1,87% e invece di pagare un abbonamento a Netflix 25€ lo pagheremo 24,53€. È molto importante acquistare tramite questo sito perché c'è possibilità di farlo tramite tanti negozi e abbonamenti e soprattutto poi piano piano arriveremo alla somma per poi fare il prelievo. Per visualizzare i nostri rimborsi c'è possibilità di farlo sia velocemente tramite il sabadanaio qui sotto al nostro username oppure semplicemente anche andando su rimborsi e pagamenti. Cosa molto importante da dire è che riceveremo il nostro rimborso una volta che siamo arrivati ad un minimo di 40€. E poi c'è possibilità di prelevare tramite buoni Amazon i soldi su PayPal e semplicemente anche col bonifico. Solo che per il bonifico verrà applicata una tariffa di 50 centesimi per i costi di gestione. Per guadagnare il bonus di 5€ basta cliccare qui su guadagna 5€ e per farlo basta invitare i nostri amici tramite questo link. Basta cliccare su copia link e possiamo condividerlo sia tramite Facebook, i nostri social eccetera. Quando il nostro amico che abbiamo invitato raggiunge 5€ di rimborsi entro 6 mesi dalla sua iscrizione noi riceviamo i 5€. Guadagnare 5€ di rimborsi entro 6 mesi non è molto complicato visto che ormai acquistiamo sempre online e passando da questo sito guadagniamo anche una percentuale di cashback quindi perché non utilizzarlo. Ripeto basta solo condividere questo link con i vostri amici e il gioco è fatto. Questo è anche il mio link che trovate qui in basso in descrizione per fare poi la registrazione. Un'ultima cosa davvero particolare e unica di questo sito è che permette di ricevere come ho detto già all'inizio il cashback dalle pubblicità. Per farlo basta cliccare qui su cashback della pubblicità e ci verrà spiegato nei minimi dettagli come fare tutto correttamente per ottenerlo. Ci sono 3 step da seguire. Attivare la pubblicità con cashback selezionando sì nell'apposita casella qui io già l'ho fatto. Poi basta navigare su internet come fai solitamente e ottieni un cashback in base a quanto navighi sul web. Più navighi e più guadagni e questa è un'ottima opportunità di guadagno che consiglio a tutti. Ripeto questo è il primo sito in Europa che permette di svolgere tutto ciò. In conclusione se non avete capito qualcosa fatemelo sapere nei commenti qui in basso oppure semplicemente contattatemi tramite instagram questo è il mio username. Questo sito è davvero ottimo perché permette di ricevere cashback da tantissimi negozi e anche tramite ricariche e abbonamenti e c'è anche la possibilità poi di utilizzare il cashback dalle pubblicità. Quindi ve lo consiglio perché anche io adesso lo sto utilizzando e mi trovo molto bene. Grazie mille ancora a tutti per la visione. Ciao!